Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video ti spiego come risolvere i problemi di crash, freeze, problemi di lag oppure problemi alla chiusura del gioco quando stai giocando a counter strike 2 ovviamente qui vanno aggiornati i driver obsoleti della tua scheda video, del tuo sistema operativo e vanno aggiornati veramente un sacco di driver e soprattutto ci faremo anche alcune modifiche nella cartella di counter strike 2 quindi iniziando prima a scaricare questi driver come directx user run team che serve ovviamente per i directx 9, 10, 11, tutti i directx supportati dalla scheda video e dal gioco quindi tu vai su scarica e cominci a scaricare questo setup poi iniziamo pure a scaricare il microsoft visual G++ che ovviamente ci sono solamente le versioni 2015, 2017, 2019 e 2022 quindi vanno scaricati i ARM64, il PER86 e il PER64 questo è per i 32 bit, il sistema operativo 32 bit e questo è il sistema operativo a 64 bit quindi vanno scaricati tutti e tre scarica questo scarica quest'altro e scarichi oppure questo una volta scaricato tutti questi driver, li troverai in descrizione passiamo a quelli di Nvidia e AMD ovviamente per chi ha una scheda video Nvidia va scaricato GeForce Experience che è un pannello di controllo che ti permette di aggiornare la tua scheda video di settare al meglio anche la grafica sul gioco quindi tu scarica questo driver, è un pannello di controllo quindi come puoi vedere GeForce Experience, questo qua e se vai su driver, qui ti fa scaricare tutti i driver della scheda video quindi tu lo scarichi e devi fare anche l'accesso, devi crearti un account Nvidia qua sopra se invece hai AMD c'è il software AMD Radeon ed eccolo qua stessa cosa con GeForce Experience, fai l'account e da lì in poi potrai settare la tua scheda e aggiornare i driver per la tua scheda video ora passiamo a installare questi driver che abbiamo scaricato 1, 2, 3 e 4 iniziando prima da DirectX accetto il contratto questo non lo installo perchè è un motore di ricerca e faccio fine e ora non ci resta che installare questi 3 driver facciamo ripristina, a me mi fa ripristina perchè io avevo già installato una versione sua precedente quindi per non avere sempre problemi di freeze, lag, crash oppure problemi alla chiusura del gioco senza motivo vanno sempre ma vanno sempre controllati i driver di tutti i due componenti e vanno sempre aggiornati i driver obsoleti ora qua ha installato perfettamente e va riavviato il computer io adesso lo chiudo invece che non è sopportato e facciamo chiudere possiamo anche cancellare questi 4 driver, tanto ha fatto il suo lavoro entriamo nella cartella di Counter-Strike 2 vai sulla rotella proprietà file installati sfoglia i file locali questa è la sua cartella vai su bin se ricordo era su... quindi andiamo su game bin win64 ed eccolo qua cs2 ci clicchiamo sopra tasto destro sopra proprietà compatibilità disabilita ottimizzazione schermo intero esegui questo programma come amministratore andiamo su modifica impostazione per tutti gli utenti disabilita ottimizzazione schermo intero ed esegui questo programma come amministratore e fai applica una volta fatto andiamo su firme digitali questo avevo fatto un tutorial su come risolvere un errore riguardo al valve anti cheat riguardo a delle firme quindi se tu ci clicchi sopra visualizza il certificato e installi così un nuovo certificato c'è la guida in alto a destra su come risolvere l'errore valve anti cheat una volta installato tutto andiamo su gestione dispositivi e andiamo su schede video questa è la mia scheda video e faccio aggiornamento a driver per vedere se ho qualche aggiornamento da fare cerco i migliori driver da installare e dice che già sono stati installati circa driver aggiornati in windows update e faccio verifica disponibilità aggiornamenti nessun aggiornamento da fare un altro trucchetto che vi posso dire è che per non avere sempre problemi di freeze o crash senza motivo durante la partita mentre stai giocando a una competitiva diciamo così vado di nuovo nella cartella di counter strike 2 game bin cancella un paio di file tipo come questi tutti i file dll tutti questi file fai così cancella tutti questi file dll prima di aprire il gioco chiudi qua e poi fai una verifica integrità dei file del gioco farà la verifica e scaricherà quei driver che abbiamo eliminato i nuovi driver più aggiornati ha convalidato così i file e adesso li sta riscaricando una volta scaricati verificati e poi installati andiamo ad aprire counter strike e poi ok siamo nel gioco andiamo un attimo su menu delle impostazioni vai su impostazioni video alcuni giochi permettono la modalità schermo intero senza problemi di crash tipo per esempio call of duty warzone io crashavo con la modalità schermo intero però su counter strike 2 non dovrebbe fare così quindi se vai su schermo intero la frequenza di aggiornamento metti gli hertz più alti che hai e fai applica modifiche una volta applicato così le modifiche andiamo su opzioni video avanzate e sull'impostazione di video qui vanno messe le impostazioni che vanno più che bene a te per esempio se hai una buona scheda video per esempio ho una 1660 super più di 120-150 fps riesco a farle con grafica molto alta per esempio c'è la qualità delle ombre quella possiamo anche togliere se la trovo questa sincronizzazione verticale visto che abbiamo attivato lo schermo intero questa qua va attivata facciamo poi qualità globale delle ombre potete anche toglierla mettete bassa il tipo di filtro della texture aumentando l'impostazione relativa i filtri del texto si migliorerà l'aspetto del del gioco da anisotropico si dispera metti quello che mi consiglia il 4 e a me mi consiglia il 4 e metto il 4 e lascio tutto così com'è quindi se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere problemi di freeze la crash chiusura del gioco senza motivo durante la partita iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao